Io sono Gabri Costa e in Tekken 7 vi faccio vedere subito l'episodio personaggio con il filmato finale di Eliza, visto che è una vampira. Guardate tutti insieme questa scena, questo filmato, guardate che ha fatto Eliza. È sfinita, deve andare a casa e riposare. Arriva Lily, Eliza è nata cento anni e quattro mesi fa. E non riesce a stare sveglia e a parlare tanto con Lily perché si addormenta come osa addormentarti in presenza di Lily. Lily non chiude mai la bocca. Forse dovresti bere meno sangue e più caffè Eliza. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Arrivederci. Grazie. Grazie.